Il campanile, Talia al Bull è qui. Perfetto. Attenzione. Lo sai che non puoi battermi. Il mio amato ti ha insegnato bene. Ti aveva detto di stare lontana da Gotham. Non mi interessano i desideri dei morti. Comunque, voglio rimediare all'errore di mio padre. In questo caso hai il demon in persona. Non hai nemmeno la tentazione di usare un pozzo di Lazzaro per riportarlo in vita. Non sarebbe la prima volta. Aspetta. Perché sei la presa con Bruce? Un classico. Un classico. Un classico. Un classico. Un classico.